Ben tornato Guter, ben tornata. Scopriamo una nuova sezione del pannello di controllo parlando di centro connessione di rete e condivisione. Cos'è il centro connessione di rete? Questa sezione ti consente di controllare lo stato della tua rete, modificarne le impostazioni ed impostare le preferenze per la condivisione dei file e le stampanti. Effettuerò una descrizione sommaria di questa sezione, quindi soltanto alcuni pulsanti, in quanto altri, sono strettamente legati alla creazione di una connessione ad internet e dato che probabilmente tu sei già connesso o sei già connessa, questo passo per te non ha alcuna importanza. Altre impostazioni invece riguarderanno specificamente la creazione delle reti, cosa che tra l'altro ho già trattato in maniera abbastanza corposa nel gruppo delle lezioni dalla 86 alla 89 e i rispettivi video tutorial, quindi ti stimolo ad andargli a consultare se già non ne avevi preso visione. Ma come accedo a questa sezione? Naturalmente dal pannello di controllo. Cliccherai sul pulsante omonimo e si aprirà una schermata nella quale visivamente tramite della grafica al centro potrai verificare la presenza o meno di un collegamento ad una rete e ancor più ad internet. grazie appunto a dell'icona, una grafica molto esplicita. Infatti si presenteranno dinanzi a te delle icone che rappresenteranno il tuo computer, la rete corrispondente ad un'icona di una casa e l'accesso ad internet indicata come l'icona di un mondo. Qui è riportato appunto uno screenshot che rappresenta quanto appena esplicato. Quindi il tuo computer, l'accesso a un'eventuale rete che si può configurare anche come un'icona della casa e un'icona corrispondente al mondo ad internet. Naturalmente se tutto funziona correttamente le linee di unione di queste sezioni saranno non interrotte, cosa che non accade in questo screenshot. In caso di problemi potrai evidenziare o una X rossa oppure un triangolino da un lato o entrambi i lati. Sul lato destro di questa sezione c'è questo pulsante chiamato visualizza mappa completa. Cos'è? In pratica ti permette di visionare tutta la struttura dei collegamenti della mappa, quindi della tua rete o delle reti a cui partecipa il tuo computer. Ovviamente questa sezione ha senso soltanto se sei connesso ad altre reti e quindi cliccaci sopra in tal caso se vuoi visionare la completezza della mappa. Altrimenti non ha senso naturalmente. Oltretutto se la tipologia della rete alla quale accede il tuo computer è pubblica tra l'altro non visionerai comunque nulla. Quindi in definitiva se sei invece connesso ad una rete clicca pure su questo pulsante per poter visionare tutta la struttura. Nella sezione subito sotto a questa trovi la lista delle reti attive. Nella zona di sinistra c'è riportato la tipologia della rete che può essere di tipo domestica, aziendale o pubblica, ossia nell'ambito del tuo appartamento oppure se fai parte di una struttura aziendale, ad esempio un lavoro, un ufficio oppure pubblica come può essere quella di un accesso nei locali pubblici o un hotspot pubblico. A destra troverai il tipo di accesso, eventualmente se questo tuo computer fa parte di un gruppo, una rete, un gruppo home e il mezzo di condivisione che nel mio caso naturalmente via cavo tramite rete LAN tramite scheda Ethernet. Se clicchi sopra al tipo di connessione puoi avere in visione alcune caratteristiche e parametri della stessa, tra cui il tipo di connettività, la durata della connessione, la velocità massima dell'accesso alla rete, il tipo di scheda di rete, l'indirizzo fisico della scheda di rete, nel mio caso Ethernet, l'indirizzo IP del modem router, eventuali indirizzi IP della rete e altri suoi parametri, potrai disabilitare e abilitare la connessione, eseguire una diagnosi della connessione qualora tu abbia dei problemi e molte altre informazioni. In questa sezione potrai giungerci anche cliccando su un altro pulsante chiamato modifica impostazioni di scheda, per poi selezionare il tipo di scheda di rete che stai utilizzando e andando a visionare i vari parametri che ti ho evidenziato nella slide precedente. Tutte queste e le altre informazioni che visionerai ti potranno sembrare difficili da comprendere, in effetti possono esserlo, ma tutto ciò è relativo al livello di conoscenza della materia che possiedi. Infatti, scritto questo, per il momento se ti risultano ostiche tale informazioni, il senso che devi prendere da questa chiave di lettura è prendere soltanto coscienza dell'esistenza di tali nozioni, perché col tempo certi termini li acquisirai sentendone parlare sempre più frequentemente e quindi entreranno nel tuo bagaglio culturale e comprenderai meglio il significato delle stesse e inizierai a lavorarci. Intendo dire, man mano che acquisirai le informazioni che ti permetteranno di lanciarti nella creazione delle tue reti, urterai per forza di cose verso certi termini e sulle relative problematiche ed impostazioni che comportano tale opzioni, tali termini. Seguendo il percorso, navigando su altri siti o ancora leggendo libri specifici, pian piano sarai quindi in grado di svincolarti dalla necessità di acquisire nuove informazioni di merito, perché ormai saranno di tua proprietà, entreranno nel tuo bagaglio in quantità sufficiente e ciò ti permetterà di applicare le competenze acquisite, iniziare la pratica. È necessario però che tu ti dia del tempo per prendere consapevolezza di tali nozioni, ma ti prego non commettere l'errore che compiono molte persone. Non capisco? Mi risulta difficile, quindi abbandono. No, Gude, non è così che funziona. Se vuoi diventare un dominatore, la forma mentis è la tua volontà di acquisire nuove informazioni ed essere determinato in ciò. La pigrizia, la paura di affrontare il nuovo hanno come unico scopo mantenere basso o alleggerire il tuo livello di conoscenza. Dopo questa digressione però torniamo a vedere cosa ci offre questa sezione. Nel ritaglio inferiore della sezione appena descritto troverai altri puzzanti che ti permetteranno di modificare le impostazioni di rete. Non posso entrare troppo nei particolari, in quanto per le reti sarebbe necessario effettuare un discorso enciclopedico scrivendo flussi di bit in quantità esorbitanti. Ti cito soltanto l'essenziale che per una persona non addentrata in materia comunque può già risultare ostico da comprendere e quindi semplifichiamo. I pulsanti che trovi in questa sezione sono configurare una nuova connessione o una rete, connetterti ad una rete, selezionare eventualmente il gruppo home e le opzioni di condivisione di questo gruppo oppure accedere alla soluzione dei problemi. Andiamo per gradi. Configurare una nuova connessione o rete ti consente di configurare una nuova connessione e le diverse tipologie di questa connessione di rete, wireless, banda larga, remota e quant'altro. Puoi infatti creare una rete senza fili, cablata, a distanza, configurare il tuo router, un punto di accesso per permettere la navigazione tramite altri dispositivi, la connessione ad una rete aziendale già preesistente e ancora. Cliccando sopra questo pulsante si avvierà di fatto una procedura guidata che ti consentirà di realizzare proprio quanto appena ho scritto. Questo processo guidato però ha senso solo se hai coscienza di ciò che vuoi ottenere. Esegui quindi queste procedure guidate soltanto dopo aver pianificato ciò che vuoi ottenere, ciò che desideri, quindi dopo aver creato la struttura del progetto. Mi spiego meglio. Se il tuo intento è creare una rete senza fili, naturalmente potrai avviare la procedura che ti permetterà di creare una rete wireless solo se hai a disposizione dei dispositivi che supportano il protocollo di ricetrasmissione senza fili, altrimenti non ha senso e non realizzerai quanto voluto. Per cui adegua il processo di creazione della rete in base alle necessità e soprattutto alle disponibilità dell'hardware. Ora forse è un pochino più chiaro. Questo per dire che non mi è possibile evidenziare tutte le varie procedure guidate in quanto ad esempio dalla mia postazione ho già un accesso ad internet e quindi supponendo che anche la tua postazione ce l'abbia, non devo configurare o creare una nuova connessione ad internet e tra l'altro se devi creare una rete lo devi fare se hai a disposizione altri dispositivi. Tra l'altro la mia viaggia via cavo e quindi non posso simularti una creazione di rete senza fili perché attualmente non ho diversi dispositivi wireless e tra l'altro una creazione di rete senza fili non è molto differente da quella cablata e già trattata in precedenza. Comunque la realizzazione non è difficilissima anche per un neofita proprio grazie al fatto che queste procedure sono guidate e abbastanza automatizzate. Condivido giusto per farti capire la mia esperienza direttantistica di qualche anno fa nella creazione di una rete. La mia prima sperimentazione nella creazione di una rete tra dispositivi senza fili è stata innanzitutto in un ambiente diverso da casa quindi estraneo e già un po' ostico di per sé. Pur non conoscendo le necessarie nozioni a quel tempo non avevo che unico scopo lo stimolo a realizzare ciò, la volontà di realizzare ciò. Quindi grazie a queste procedure guidate nell'arco di poche ore all'inizio, in realtà quando sei consapevole e conoscitore della materia impiegherai pochi minuti. Comunque grazie a queste minime conoscenze e alle procedure guidate ho creato una rete di due computer nel dettaglio a cui avevo collegato ad ognuno un'antenina bluetooth. Beh, semplicemente seguendo, cercando di capire, ipotizzando dove non capivo quanto ho mostrato, durante la procedure da Windows XP ho raggiunto tale obiettivo e le difficoltà del dilettante in quel caso si è trasformato a passimo il termine in eccitazione pura nel veder transitare, trasferire un file da un computer all'altro. Questa breve storia è per stimolarti nel lanciarti nell'ignoto, anche se hai paura se non conosci nulla, perché sfruttando per grandi linee quello che già conosci come virtualizzazione e che in seguito tratterò in maniera più dettagliata quando descriverò la funzionalità di alcuni programmi dedicati potrai sperimentare in piena sicurezza e quindi tuo malgrado anche non conoscendo le sufficienti informazioni, le sufficienti nozioni, certamente realizzerai prima o poi ciò che vuoi ottenere. Ma ora rispettiamo la cronologia, quindi connessione ad una rete. Che cosa indica il resto di questa sezione? Semplicissimo, se clicchi sopra il pulsante, si apre in basso a destra nella SysTray la lista delle connessioni disponibili, capilate o wireless, a cui potenzialmente potrai connetterti. Sarà anche visionato lo stato appunto di eventuali connessioni o disconnessioni. La stessa cosa la puoi ottenere cliccando su questo pulsante, connetti o disconnetti. Quindi potrai visionare lo stato delle tue connessioni. Se connesso troverai il pulsante di connessione realizzata oppure ti permetteranno altri pulsanti di connetterti a una o l'altra rete della tua cerchia. Altra sezione, selezione, gruppo home e opzioni di condivisione. Parte di questa sezione l'hai visionata dalle lezioni 86 e 89 nei rispettivi video tutorial. Quindi banalmente puoi andare a visionare di nuovo queste lezioni. Ti rimando ora naturalmente alla consultazione di una parte di quanto trattato rimandando al futuro la trattazione più completa del gruppo home in quanto questa sezione è anche una sezione che tratterò più avanti nel pannello di controllo. Il pulsante in alto a sinistra modifica impostazioni di condivisione avanzati ti presenta sempre una schermata di impostazioni relativa proprio alla lezione del gruppo home. Ultima sezione è risoluzione di problemi. È una sezione che diventa importantissima quando riscontri dei problemi alla tua rete. Infatti ad esempio in caso di mancanza di connessione ad internet cliccando su quel pulsante verrà eseguita una diagnosi più o meno lunga che potrebbe portare alla correzione automatica di problemi della rete oppure ottenere informazioni utili che ti permetteranno di risolvere il problema. La procedura sarà composta da vari step, da vari passi nella quale il sistema operativo eseguirà delle verifiche e dei controlli in parte automaticamente. In parte dovrai per così dire aiutarla ad andare avanti. Il tutto a termine verosimilmente ti permetterà di risolvere i problemi principali che possono produrre una mancanza di connessione. In definitiva nei vari passi potresti trovare immediatamente la soluzione ed in maniera del tutto automatica oppure per mezzo del tuo intervento indirizzato dagli stessi. Non è detto che tale procedura abbia successo, ma comunque è un buon punto d'inizio soprattutto se non si sanno che pesci pigliare. Andiamo a vedere qualcosa in più per quel che riguarda il centro connessioni e condivisioni. Innanzitutto come si avvia da start pannello di controllo individua la scritta centro connessioni di rete e condivisione cliccaci pure sopra. In questa sezione noterai alcune informazioni riguardo la tua connessione. Innanzitutto graficamente puoi avere un'indicazione di massima su quel che è il tuo status della connessione. In questo caso dal computer al router e dal router ad internet ho due linee continue per cui la connessione è correttamente realizzata. Qualora si presentassero dei problemi sarà necessario muoverti al riguardo. Adesso io simulo un problema per realizzare questa interruzione. Vado su modifiche impostazioni di scheda. Queste sono le mie due schede potenziali di collegamento ad internet. Questa è quella che sto utilizzando attualmente. Clicco con il tasto destro e disabito la connessione. Tornando indietro potrai notare che vi è la mancanza della connessione. Quindi il problema può evidenziarsi o con una X rossa oppure con un triangolo giallo. In questo caso dovrai agire per risolvere il problema. Puoi cliccare direttamente sopra la X per tentare di risolvere i problemi oppure cliccare su questo pulsante risoluzione dei problemi. Si avvierà in entrambi i casi una procedura automatizzata che tenterà di risolvere dei problemi. Vediamo cosa accade. Clicchiamo sopra e ci dice subito di collegare il cavo ethernet nel computer. In questo caso io sono a conoscenza che il cavo ethernet è collegato però nel tuo caso dovresti andare a controllare se il cavo è correttamente collegato. In questo caso naturalmente ignorerò il passaggio in quanto sono consapevole che ho creato io il problema e quindi il cavo è collegato. Quindi clicco su ignora questo passaggio e vediamo cosa succede. Come puoi vedere il problema è stato risolto autonomamente dal sistema che ha semplicemente ricreato la connessione, ossia ristabilito la connessione, riabilitata la connessione ad internet. Qui puoi vedere un resoconto dei problemi rilevati. Nel mio computer è presente un'altra scheda di rete che non è collegata tramite cavo ethernet e la scheda virtualbox che è disattivata, mentre quella che attualmente è in uso era stata disattivata da me e il sistema automaticamente ha risolto il problema riabilitandolo. A questo punto possiamo chiudere il centro diagnostica di rete Windows e proseguire nella descrizione. Ciò per farti vedere come dovrai agire qualora si presentassero dei problemi. Tramite questo pulsante visualizza mappa completa avrai la possibilità di, in base alla selezione della scheda di rete, visualizzare la mappa completa, ossia la struttura della tua rete. Naturalmente in questo computer io ho soltanto un accesso, quindi è collegato ad internet soltanto in questo momento questo computer, per cui non essendo attivata la mia rete avrò in visione soltanto il computer, il router che consente l'accesso ad internet e appunto internet. Torniamo pure alla finestra principale e andiamo a descrivere gli altri pulsanti. Tramite questo pulsante connetti o disconnetti, in basso a destra avrai in visione le reti a cui si è connesso ed eventualmente quella a cui potrai connetterti. Supponiamo che tu sia in presenza di una rete wireless, il tuo ricevitore avrà rilevato le eventuali reti wireless presenti nella zona e ti consentirà di connetterti ad esso cliccando sopra il pulsante connetti. Naturalmente ricorda che se la rete wireless è cifrata, quindi protetta da password, ti verrà richiesta la password per poterti connettere. La rete attualmente che sto utilizzando è una rete domestica. Cliccandoci sopra si evidenziano le altre possibilità. Come puoi vedere potresti eventualmente migrare questa tua connessione ad una rete aziendale cliccandoci sopra, oppure potresti trasformarla come rete pubblica. La differenza è che naturalmente in una rete pubblica i computer connessi non sono identificabili, mentre sia in una rete domestica che in una rete aziendale i computer sono identificabili certamente. Clicchiamo di nuovo su rete domestica per ripristinare la configurazione predefinita. Nella zona destra è evidenziato il tipo di accesso, in questo caso internet, il gruppo home a cui fa parte questo computer, anche se attualmente non sono accesi gli altri, quindi non è possibile visionare gli altri computer connessi alla rete. In questa sezione trovi il tipo di connessione, che nel mio caso è una connessione a rete cablata, rete LAN, cliccandoci sopra potrai visionare alcuni dettagli, il tipo di connessione attualmente in uso, il PV4, lo stato che naturalmente è abilitato, da quanto è connesso attualmente questo computer alla rete e la sua velocità massima. Eventuali altri dettagli potrai scoprirli cliccando sopra questo pulsante. Chiudiamo questa schermata. Questi altri pulsanti in basso ti permetteranno, come abbiamo visto prima, di disabilitare la connessione ad internet, eseguire eventuali diagnosi come precedentemente mostrato, oppure rilevare altre proprietà della connessione. Qui potrai scegliere di visionare altre proprietà, cliccando ad esempio su protocollo internet IPv4 e cliccando su proprietà, potrai decidere se ottenere un indirizzo IP automatico dal server per poterti connettere, oppure qualora tu dovresti creare una rete, dovresti inserire questi parametri per poter far dialogare i vari computer. Questo è un altro campo che ti permetterà di migliorare le prestazioni della rete connettendoti ad un server ben definito. Torniamo alla schermata precedente. Qualora il computer fosse connesso tramite la versione IPv6, anche qui potrai accedere a eventuali impostazioni ben definite. tramite questa opzione potrai, grazie a questo segno di spunta, consentire ad altri utenti della rete di connettersi ad internet tramite questo computer. Eventualmente, magari, se tu sei l'amministratore puoi disattivare questa opzione per inibire la possibilità di controllare o disabilitare la connessione ad internet condivisa. Ma comunque, adesso annulliamo queste impostazioni, chiudiamo questa schermata e andiamo a visionare cosa ci presenta il resto della sezione. Tramite il pulsante configura nuova connessione o rete potrai avviare alcune procedure guidate. Se hai una connessione realizzata non devi naturalmente creare una nuova connessione in quanto già sei connesso ad internet, ma qualora tu debba realizzare ad esempio una connessione wireless potrai avviare una procedura guidata. Quindi non ti resta che selezionare quale di queste procedure guidate avviare e cliccare su avanti. A questo punto si avvierà una procedura guidata che ti consentirà di realizzare quanto ti hai ripromesso, ma dato che in questo caso il computer è già connesso ad internet, non ha senso configurare una nuova connessione. Comunque il senso è scegliere il tipo di configurazione che vuoi eseguire e sfruttare questa procedura guidata per configurare la tua connessione. Sotto questo pulsante c'è connessione ad una rete. Questo è lo stesso pulsante che ti permette di evidenziare la tua connessione che abbiamo visto in precedenza, ossia connetti e disconnetti. Il pulsante seleziona gruppo home e opzioni di condivisione già in parte. Lo abbiamo visto quando abbiamo creato e descritto un gruppo home, cosa che comunque riprenderemo in seguito in quanto questa sezione gruppo home è riportata all'interno del pannello di controllo. Altra cosa naturalmente relativa al gruppo home è questo pulsante modifica impostazioni di condivisioni avanzate. Potrai ben ricordare queste impostazioni descritte proprio nelle lezioni relative al gruppo home. Ultimo pulsante che fa parte di questa sezione è il pulsante risoluzione problemi che hai già visto in precedenza ti permetterà di selezionare il problema che io avevo simulato precedentemente disconnettendo la connessione ad internet. Ti permetterà di selezionare il problema parzializzandolo in base a ciò che è stato evidenziato, ossia una connessione, la mancanza di condivisione delle cartelle, oppure l'impossibilità di visualizzare i computer del gruppo home, risolvere i problemi della scheda di rete e quant'altro. Quindi, ripeto, in base al problema che si presenterà a te potrai sfruttare queste procedure guidate per poter ripristinare la connessione in maniera ottimale. Nella prossima lezione ti addentrerò sempre più nel pannello di controllo. Ora come sempre un forte saluto, ciao a presto da Carlo e dalla prossima! Ciao a presto!